Ciao a tutti ragazzi, ricominciatevi per un nuovo video, io sono Antonio Minovoli e qui faremo un altro video slime perchè non so se proprio ora si deve accendere questa asciugatrice, mannaggia, grazie allora la cosa che io uso è questa qui, la slime è della CR, che è questa, in realtà lo schermo se volete e l'ho pagata 4,50 euro, non so se mi riuscirà perchè questa la vedo un poco più liquida di quello che prendo sempre eh già, è molto più liquida di quello che prendo qua sempre quindi, non so, aggiungiamo anche una roba che è questa della gilette che mi è quasi finita quindi la devo andare a comprare un po', aggiungiamo un po', poi aggiungiamo un po' di questa che è la soluzione per le lentine a contatto che ho dimenticato di bifarbonato, quindi, ne aggiungerò giusto un poco perchè voglio fare un miscoglio di addensanti e quindi non so se poi riuscirà, quindi, perchè di solito, ehm, mi riesce, no? però, ehm, dovrebbero essere un po' più liquido ai gigli dai, scoliamo l'ordineo si sta già addensando io già ne ho fatto uno prima per vedere perchè la colla mi sembrava molto liquida è già venuto così vabbè, poi dovremmo fare un miscoglio e poi, ehm, cioè, domani ne farò un altro cioè, pubblicherò un altro raga, non potete immaginare che sono pieni di aciduri comunque, aggiungiamo l'acido borico e poi, mescoliamo di due vabbè, io penso che potrei fare tutto con le mani, quindi... non so quanti like dovreste mettere a questo video però, facciamo uno perchè la ragazza è molto popolare, se volete uuuuh, ha fatto la ciotola, yeah vabbè, lo sta avvenendo piano piano ehm, si toglierà tutto il bordo io lo lascio un primo appiccicaticcio perchè... questa cosa può finire che diventa troppo duro ok maneggiandolo, maneggiandolo diventerà così allora non mi farò vedere la faccia oggi perchè sono tutto scombinato i capelli che sembra che ho messo alla mano nella corrente vabbè tac è venuto lo slime ora mettiamo i capelli e mi farò vedere l'altro slime come la metto si è questo è un magnifico oh che è fatta ed ora facciamo una emoji con questa cosa poi facciamo degli occhi li facciamo anche qui oh oh eh dai ti ha sfogato di sè di merda non è troppo uscito ok ora farò non so se ne faccio ecco 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 ora facciamo la faccia ecco 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 cioè Grazie a tutti. Grazie a tutti.